Convocati dal Signore per questa celebrazione eucaristica, chiediamo la conversione del cuore e il perdono dei peccati. Signore! Sì, pronto. Ah, sei tu? Sì. Siamo in una chiesa, un po' di buona creanza. Effettivamente, però, preto, sto telefonando, va. Se per cortesia abbassa un po' il volume, un po' di creanza, va. Veramente. Mi è stato chiesto, se vengo eletto, cosa intendo fare per i poveri e bisognosi. Una beata minchia! Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta, anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Signore, gentilmente, mi fa la ricevuta fiscale. Pante rotta fraudolenta, false fatturazioni, riciclaggio. Ma manca di essere rubato qualcosa e qualcuno. Tu devi essere il nostro sindaco. Ho bisogno di riflettere. Hai riflettuto? Tre volte, ma ancora non sono convinta. Ma lo sa che lei ha un bel corpo d'assessore? Porteremo barche di pilo, navi cariche di pilo, insommamente, fortissimamente pilo. C'è in lui un qualcosa di ancestrale, un qualcosa anche di animale. Permesso, 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 avanti. È ancora calda, tutti hanno diritto di votare. Papa! Melo! Beh, mi è mancata tanta la famiglia. Era così forte la mancanza che infattamente in questi anni me ne sono fatto un'altra. Ehi, fattamente! A loro sarà una grande amicizia. Andiamo. So che c'è una bellissima mostra di pittura. Ti piace dipingere? Ti porto a dipingere. Ho i pennelli in macchina. Eh, Moluzzo, ti piace il mio disegno? Onda, Calabra, qualunque mente, se c'è pilo non ci manca proprio niente. Onda, Calabra, spessatamente. Ma lei la conosco e non la voto. Voto dei Santi. Onda, Calabra, intattamente, se di picchio non rimane quasi niente. Onda, Calabra, qualunque mente. Grazie a tutti!